I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala hanno denunciato un soggetto classe 76 per furto aggravato di merce presso un'attività commerciale. I militari dell'arma, allertati dal titolare dell'attività, si sono messi sulle tracce dell'uomo ben descritto dal richiedente, il quale dichiarava di aver subito un furto di merce. Dopo pochi minuti i carabinieri lo hanno rintracciato a piedi nei pressi del lungomare. L'uomo ha accennato una fuga ma è durata solo pochi metri. Sottoposto a perquisizione personale, è stato sorpreso in possesso di due profumi del valore di 100 euro, presumibilmente sottratti da un negozio poco prima. La merce è stata restituita dai carabinieri all'avente diritto, mentre l'uomo, nato a Palermo ma da sempre residente a Marsala, è stato deferito all'autorità giudiziaria.